La camorra ora fa l'estese e spara all'impazzata anche di buon mattino nell'orario in cui le mamme accompagnano i bambini a scuola. È accaduto a Rione Sanitale 7.45, due uomini in scooter hanno esploso, tre colpi nel tipico stile dell'estese, quindi solo per intimidire, senza un obiettivo preciso. È successo in viante secula la strada dove nacque Totò, di cui si festeggiava il 119esimo anno dalla nascita, proprio l'altro ieri, mercoledì. Panico tra la folla e fuggi fuggi generale, anche perché in quella strada c'è l'Istituto d'Este Caracciolo, lo stesso frequentato da Jenny Cesarano, la giovane vittima innocente di camorra, rimasto ucciso da un proiettile due anni fa nel corso di una stesa nel cuore della notte. Spavento, indignazione e rabbia nelle parole della preside dell'Istituto d'Este Caracciolo. Meno male che non è successo fuori scuola ma distante dalla scuola dove le famiglie, i docenti, i ragazzi non hanno percepito la gravità ma anche il rischio che hanno corso e quindi mi reputo già fortunata a non aver avuto altri tipi di problemi. Spero che con la rete sanità creata da noi dirigenti scolastici ci sia ancora un lavoro più capillare, più forte rispetto a organizzare situazioni che possono in qualche modo cautelare quella che è la popolazione. Ok?